Città da bere, no Milano la città da bere, ma in realtà si mangia, si mangia bene e Facino qui a TuttoFood ha portato una bella ventata di novità. Abbiamo portato delle novità e con molto piacere, con molta soddisfazione stiamo accogliendo i nostri clienti e potenziali clienti, soprattutto esteri, ci stanno dando grande soddisfazione fino ad oggi. Noi portiamo il Made in Italy, intanto è la cosa credo più importante per un'azienda che opera nel lago alimentare come la mia. È un modo per confrontarsi con tutti, noi dobbiamo competere col mondo, ormai il mercato è diventato globale, quindi competiamo con tutti. Ma poi la fiera è un'occasione per incontrare i clienti, incontrare dei fornitori e andare a vedere anche il mercato in che direzione si muove. Io credo che noi dobbiamo avere la consapevolezza che fare imprese in Calabria si può fare, perché abbiamo delle eccellenze che nessuno ha e non dobbiamo trovare l'alibi, perché è sempre stato solo un alibi, del fallimento delle aziende perché mancano le strutture. Noi dobbiamo essere capaci di intercettare i bisogni dei nostri clienti o potenziali clienti e cercare di accontentarli, ma fare imprese si può fare. È vero che abbiamo difficoltà per quanto riguarda i mezzi di comunicazione, le strade, l'aeroporto, però abbiamo delle eccellenze che nel mondo non tutti hanno. Quindi noi dobbiamo fare emergere il positivo che abbiamo, i nostri prodotti agricoli soprattutto che sono eccellenze nel mondo.